Napoli è destinata a migliorare, migliorerà in fretta certamente le partite che andremo ad affrontare e ci aiutano in questo senso perché sono partite di altissimo livello, molto importanti e credo che tutto sommato la squadra è pronta in tutti i suoi effettivi. Insomma oggi dobbiamo considerare anche che alcuni giocatori come Maximovic che non aveva mai giocato si è fatto trovare pronto, presente, ha fatto un'ottima partita così come Mertens che ha giocato la prima partita dall'inizio ha dato un contributo importante. Insomma siamo destinati a crescere e andiamo a Belgrado con la voglia di fare bene, di iniziare bene il girone che è un girone difficile ed è fondamentale iniziarlo bene.